Salve cari amici e amici, come già vi ho detto in altre occasioni, io da 12 anni volevo essere uno scrittore, ma mi ha sempre demoralizzato il fatto che è difficile trovare un editore che ti voglia pubblicare. In questi giorni ho ascoltato dal telegiornale della RAI che ci sono degli editori che ti pubblicano digitalmente, quindi al più presto farò un'opera e la pubblicherò online digitalmente, ve lo farò sapere in Twitter, Facebook, Youtube, Dailymotion, Vimeo e Sprecher. Al più presto quindi scriverò un libro digitale. Spero che vi possa piacere e vi dirò quando questo e come si distribuirà. Grazie a tutti e tutti voi per seguirmi, quindi al più presto Sant'Enciani scriverà un libro e lo farà sapere multimediaticamente che lo avrà scritto, cioè Sant'Enciani io. Grazie di nuovo per seguirmi, per essere in tanti, per aver superato le 9200 condizioni e mi raccomando iscrivetevi al mio canale di YouTube, al mio profilo di Facebook, Twitter, Vimeo, Dailymotion, Sprecher. Al più presto scriverò allora. Ciao! Salve amiche e amici che mi seguite, in particolar modo tanti saluti alle amiche e amici di Gazzalpa Locco e ai miei amici cinocchi di Gazzalpa Locco. Anche presto caricherò nel mio canale di YouTube Sant'Enciani. Vi ringrazio tutti di seguirmi, delle più di 9200 visioni e di essere sempre 100 iscritti nel mio canale di YouTube. Vi invito anche a vedere il mio Twitter Sant'Enciani, Verymotion Sant'Enciani e Vimeo Sant'Enciani. Grazie ancora per seguirmi, manderò anche dei video nel mio profilo Sant'Enciani di Facebook. A chi me lo chiede vi spiegherò perché sto qua, però per il momento di solo me l'ha mai chiesto. Allora grazie di nuovo di tutto. Faccio questo video che poi faccio un collage di tutti i video che ho presso con il mio vecchio cellulare PK215 della LG, che ha un cattivo audio per questo a volte mi devo avvicinare al mio vecchio cellulare. Faccio un collage di tutti questi video che faccio fuori casa, poi li unisco tutti insieme e faccio un unico video. Per mandarvi a voi i miei saluti, al più presto caricherò dei nuovi video, forse con i miei cani, nel mio canale di YouTube Sant'Enciani. Grazie ancora una volta per seguirmi, amici e amiche di Vitorale Romano, di Casalpa Locco, Ostia, Euro, Cimicino, Formaglianica, Plastica di Mare, Anzio, Prometria, anche agli amici di vita di Pomaglia dell'Istituto della Mission K. Ciao, adesso ho preso a devo andare, perché prima ho registrato, ma il cellulare non ha funzionato bene e ha perso l'archivio. Adesso vi saluto ancora una volta. Tanti saluti dal vostro caro amico Sant'Enciani e a risentirci. ciao e poi Sant'Enciani sarei io. Ciao. Salve. Salve tutti. Si sta facendo note, è tardi, pomeriggio tardi. Io sono stato tutto il giorno fuori cassa, non sono potuto entrare in YouTube a leggere i messaggi. Grazie per seguirmi, al più presto farò nuovi video. Sono stato fuori tutto il giorno, sono stato nel centro e anche oltre, nella periferia. È stato un giorno sui generi. Non posso dire che è stato un giorno anormale. Forse è stato nella norma. Ho viaggiato molto. Ancora non sono tornato a casa. Domani starò tutto il giorno girando qualcosa. Beh, ringrazio di seguirvi, di seguirmi, di essere molti. Ciao. Ci risultiamo. Salve amici. Al più presto ci vediamo. Ciao. Farò un nuovo video. Ciao. E forse vi dico dove sto adesso. Molto lontano da casa. Salve. Ciao. a tutti e tutti. Ben trovati. Ecco un'altra avventura del Signor. Buona avventura. Spero tutti voi state bene. Già ho fatto un video. speciale ringraziandovi delle quasi 9.000 visioni. Ma io vorrei fare un video specialissimo ringraziandovi delle 10.000 visioni. E poi mi saluto a tutti e tutti i miei iscritti, in particolar modo a tutti. e riguardo quello che dicono che i servizi ti guardano, che siano, che ascoltano. Io non ho nulla da nascondere. Anzi. Però quello che io vorrei è che quando ascoltano o vedono qualcosa, vedono e ascoltano, del mio canale di mettere mi piace, di mettere mi piace, di iscriversi al canale. Di non scaricare il video e vederlo 10.000 volte, ma di passare il link del video e del canale. Perché magari sono molte le persone che intercettano archivi in internet, video in internet. E io non vorrei che così perdessero molte visioni del canale. Quindi, vabbè, tutti quelli che controllano costi in internet, siccome io non ho nulla da nascondere. Passate il link. Non scarcate il video. Se no, ogni volta non quotizza una visione. Invece, passate il link in tutti i servizi, organismi di controllo. Ciao. Salve cari amici e amici. Oggi continuo a stare fuori casa e sarò fuori casa tutto il giorno. Vi mando i miei saluti. Mi raccomando, state bene. Al più presto ci rimettiamo in contatto. Io pubblicando altri video e voi guardandoli. Per il momento non sono riuscito a entrare in YouTube da stamattina, perché ieri mi sembra di aver caricato qualcosa. Oppure ho attualizzato il mio canale Sante Cian. Però da oggi cercherò di fare qualcosa. O forse da domani mattina. Domani mattina di sicuro vado fuori casa e registro di nuovo. Quindi grazie per seguirmi, grazie per essere in circa 9.000 a avermi visto. Ci sono 9.000 visioni del canale, più o meno. E poi ne essere più di 101 iscritti. Grazie di tutto. Grazie per darmi tanta fiducia. E io al di questo la ricavirò con nuovi video. Saluti. E mi raccomando, seguitemi in Facebook Sante Cian, Twitter Sante Cian, Vimeo Sante Cian, Venimotion Sante Cian e Sprecher Sante Cian. Dove sto iniziando a cancellare dei programmi radio, già emessi, perché il mio canale è gratis. Io sono disoccupato, però devo cancellare perché ho un dimentio di 10 ore. E quindi nuovi programmi, nuovi e vecchi programmi cancellati. Ciao di tutto e grazie per seguirmi. Salve a tutti e a tutti, amici. Spero vi troviate bene. Io continuo a caricare video per YouTube, il mio canale è Sante Cian. Spero che vi piacciono. Appena porto a fare i rossi libri. E ancora una volta, a tutti voi di gastronomia. Grazie per seguirmi. Un saluto a tutti gli amici di Sessualdoloco di Roma e della Corsa Lassiana. Ciao. Ciao.